benvenuti a questo nuovo podcast della stampa di cesana sono fabrizio frattini sono qui con il nostro direttore il direttore dei giornali della stampa di cesana lorenzo del bocca per parlare delle notizie che avremo sulle nostre testate nei giornali in edicola domani 14 luglio direttore di che cosa parliamo nelle nostre pagine comuni dunque c'è un allarme dei risicoltori perché nei depositi esaminando i chicchi sono state trovate impercettibili tracce di arsenico e tracce un po più sensibili di cadmio roba minima se vogliamo ma non possono essere messi in commercio questo fenomeno è stato determinato dalla grande siccità dell'anno scorso che ha finito per asciugare le zolle evidenziare questi aspetti infettivi dei prodotti alimentari non ci sono pericoli perché in realtà questi prodotti non sono in commercio ma è un danno significativo per il risicoltore che non hanno la possibilità di vendere l'alpa scende in piazza è stata un'edizione tribolata perché c'è stato il rischio di non poterla realizzare in realtà adesso si comincia già questa settimana e si arriva con manifestazioni fino al 23 luglio cantanti musica manifestazioni e praticamente una spianata che occuperà di interamente varallo di stand che offrono prodotti gastronomici e che offrono prodotti dell'artigianato locale e i giovani si stanno preparando la giornata della gioventù a lisbona la partenza sarà il 24 luglio sono 800 persone che hanno già dato l'adesione 800 ragazzi che avranno la possibilità di incontrarsi di familiarizzare di fare amicizie e di conoscere coetane di altri stati che arriveranno alla giornata della gioventù come loro andiamo nelle edizioni del sud l'edizione del sud ricordo sempre per i nostri giornali sono l'azione di novara lecco di gagliate il cittadino leggese il ricreo di belinzago qui quali sono i temi in primo piano dunque il novara il tema centrale quello della sanità con notizie positive altre meno positive per esempio per il nuovo ospedale si allungano i tempi per gli appalti e anche questo è un fenomeno come dire normale per la nostra burocrazia perché quando vengono fatti gli appalti prima che vengono esauriti passa così tanto tempo che l'inflazione rischia di mangiare il guadagno delle aziende che hanno partecipato e quindi alla fine ritirano la loro adesione serve accorciare i tempi a quello che cercheranno di fare tra comune regione la notizia positiva invece che la cardiologia si è rinnovata e in particolare c'è un reparto con cinque nuovi posti letto subintensivi che potranno venire incontro alle esigenze dei pazienti il pronto soccorso che aveva suscitato perplessità nelle scorse settimane perché era affollato quasi preso d'assalto verrà rinnovato e c'è un progetto per ampliarlo dotarlo di nuove sale in modo tale che siano più funzionali e più utili per i pazienti che hanno necessità novara sta preparando una piccola rivoluzione stradale con nuovi varchi e nuovi orari per coloro che entrano in città per per commercio per carico scarico di merce in modo tale da limitare il traffico nel centro cittadino che in effetti è affogato di traffico oleggio è stata la prima cittadina ad aderire al progetto green per costituire e costruire delle comunità energetiche è un progetto che riguarda le aziende le imprese anche i nuclei familiari e infatti il comune si è già preoccupato di metterlo nel proprio sito un modulo con il quale ognuno può aderire a questa iniziativa a bellinzago c'è un piccolo campione che gioca nell'inter si chiama leonardo bovio non ancora 15 anni infatti gioca nell'under 15 ma per il secondo anno consecutivo ha vinto il campionato ed è stato chiamato per le selezioni nazionali a gagliate è finita la settimana dedicata al folk si sono esibiti una quarantina di gruppi che sono arrivati da tutta europa particolarmente applauditi gli ucraini per questioni diciamo belliche ma soprattutto i greci che hanno strappato applausi convinti dal pubblico la domenica durante la messa la messa è stata animata da alcuni canti folk andiamo all'edizione del centro al centro anche qui lo ricordo sempre sono l'informatore di borgomanero il sempione di arona e poi abbiamo il monterosa che il giornale della valsesia con l'informatore proponiamo un'inchiestina sul fatto che chiudono i negozi del centro storico particolare nella zona del borgomanerese ha chiuso una panetteria storica che ha chiuso dopo quattro generazioni e ha chiuso una ferramenta gozzano che era un punto di riferimento per tutti quelli che avevano necessità di questi prodotti un po perché i giovani scelgono altre strade ma un po perché le difficoltà economiche finanziarie sono significative si abbassano le serranti allora abbiamo fatto un'intagine la terza che il responsabile provinciale per il commercio e suggerisce di valorizzare questi prodotti intanto diminuendo gli le spese ma soprattutto cercando di propagandare prodotti tipici locali tipicamente locali in modo tale da attirare il turismo 14 persone hanno pedalato fino a santiago di compostela e a proposito di cammini storici e religiosi si sta immaginando un cammino di colombano che per adesso sarà soltanto tra san gallo nella svizzera fino a briga novarese il sindaco che era barbieri ha firmato il protocollo che dà via questo progetto ma il cammino di colombano dovrebbe riguardare anche i paesi del nord in particolare l'irlanda e la scozia la ginnastica 2000 si è esibita a lignano e a rimini per i campionati europei e si è coperta d'oro a gozzano gli anziani del centro padre pico sono diventati attore per un giorno e si hanno messo in scena una commedia esilerante che riguarda un innamorato deluso e che ha strappato sorrisi applausi da tutti coloro che erano erano lì ad ascoltare ad arona hanno consegnato la bandiera lilla che è quella che si dà a coloro che mettono in atto progetti di inclusione in particolare arona vuole utilizzare la barca in particolare la barca vela per coinvolgere i più fragili e gli autistici il ministro locatelli ha presenziato al battesimo di questa iniziativa gusmeroli che ha recentemente avuto la delega per occuparsi della semplificazione fiscale è stato premiato dalla confassociazioni infine paruzzaro ha celebrato gli anniversari di nozze e sempre paruzzaro ha partecipato a una cena monstre che ha raccolto dei fondi per aiutare sarsina che è uno dei paesi alluvionati dalla romagna il monte rosa pubblica la notizia di un'iniziativa di gaudete che ha organizzato un dibattito sulla questione del lupo che sta popolando le nostre montagne e domandandosi se sia possibile la convivenza del lupo con l'animale con l'uomo l'iniziativa è stata come dire apprezzata per un verso ma anche contestata dall'altro perché tante locandine che pubblicizzava un'iniziativa sono state strappate buttate via le atli di aranco mettono in campo i sudamericani in un torneo 3 per 3 hanno vinto i peruviani che hanno sconfitto gli argentini che sono però arrivati davanti ai cileni e davanti ancora ai venezuelani l'azienda guidi di grignasco che si occupa di accessori per la nautica ha compiuto i 50 anni quindi è un'azienda già consolidata sbarca in florida con una azienda gemella infine a romagnano è ancora vivo il ricordo del patrono san silvano che è stato celebrato in questa settimana e infine i nostri giornali della provincia del verbano cuseosso da cui abbiamo il verbano abbiamo il popolo dell'ossola e l'informatore del cuseo a verbania al museo del paesaggio sono esposte le allegorie di paolo veronese una mostra di piante rare che sono state dedicate al cactus della specie folies è realizzata villa giulia sempre a verbania stresa per una quarantina di ore è diventata la stresa liberty è stata animata da carrozze e da personaggi vestiti con gli abiti della belle epoca infine gurro sta celebrando la madonna del carmeno e lo fa con due iniziative una è quella di proporre ai fedeli quello che loro chiamano il messone cioè una messa particolare con un canto in latino che viene cantato in parte da uomini in parte da donne che si richiamano uno con l'altro ma contemporaneamente questo questo messone è stato ritrovato da don bergamaschi il quale ha trovato le tracce di questo di questo canto e l'ha proposto la sua comunità contemporaneamente si celebrano i 50 anni del gemellaggio che gurro ha con la famiglia dei megaire scozzese perché curro dal 1525 ospita una colonia di scozzesi i quali hanno lasciato tracci indelebili anche nel dialetto del paese la stessa madonna del carmeno viene celebrata anche a cannero dove però la celebrazione consiste nel depore sul lago i lumini che praticamente accendono l'acqua a domodossola bruno toscani è stato confermato presidente dell'unione montana e ha il suo da fare perché dovrà gestire una decina di milioni che vengono dati dalla regione per valorizzare sviluppare il territorio a masiera è stato realizzato un festival vintage è stato realizzato a villa caselli e i prodotti più significativi che sono sembrati più interessanti sono i dischi in vinile a baceno è stato realizzato un sentiero intitolato alvezio francioli che è stato un sindaco storico della città che ha lasciato un ricordo molto positivo per le opere che ha realizzato a druonio dopo 40 anni di stop torna la marcia longa nello menese oreste prima testa è soddisfatto perché lui è il presidente dell'unione turistica del lago d'orta dice che la stagione dal punto di vista dei villeggianti è partita bene però chiede maggiore sinergia soprattutto con le istituzioni politiche guarna chiede un'accademia per gli strumenti a fiato bene chiudiamo qui questa edizione del podcast della stampa di cesana io sono fabrizio frattini con me c'era il nostro direttore lorenzo del bocca vi ricordo che tutte le nostre notizie non sono solo in edicole agli nati domani 14 luglio ma tutta la settimana sono anche online su www.sdnews.it www.sdnews.it Grazie a tutti